Pace di Cristo, fratelli, sorelle, che Dio vi benedica, oggi è 23 maggio del 2016, sono il fratello Giordi e vorrei condividere con voi un pensiero che sta nel mio cuore, un testimonio di come il Signore si glorifica, mentre anche noi ce ne accorgiamo. E che bello, benedizione, avere la radio apostolica a nostra disposizione, poter ascoltare i culti, poter ascoltare delle conferenze, degli studi, dei pensieri, in un secondo momento, magari per varie motivazioni non possiamo partecipare a questi eventi, ma grazie a Dio per la radio, ovviamente una benedizione, ed è molto importante anche la fratellanza, da non trascurare questo fattore. E ringrazio il Signore per il multivediale che si adopera per la radio, ringrazio il Signore per le sorelle che si adopera per l'insegnanza ai bambini, che Dio li benedica, si potrebbe pensare, ma i bambini magari potrebbero dimenticare, magari uno potrebbe pensare, sì ok, uno insegna a un bambino, però alla fine potrebbe dimenticare subito questo bambino, o magari si potrebbe pensare tempo perso, però che bello che il Signore lascia impresso nella mente delle persone. Tanti ricordi quando noi eravamo bambini, io per esempio ho questo ricordo quando io avevo l'età di 4-5 anni più o meno, nella mia famiglia, in gran parte della mia famiglia, segue una dottrina trinitaria, io mi ricordo comunque che loro mi portavano i loro culti, mi portavano alla loro sala dove si tenevano i loro culti, io mi ricordo bene che questa sala era suddivisa in due parti, un pian terreno e un secondo piano. Questo primo piano, mi ricordo che c'erano tante salette dove si arrivava verso le ore 10 e si dividevano per le fasce d'età o magari uomini e donne si potevano dividere e si prendeva una mezz'ora o 40 minuti di fare degli studi apposta per quelle persone che erano dentro quella sala, per esempio i bambini a 0-5 anni, da 6 in poi, giovani, donne, uomini e così via. Poi alle ore 11 si teneva il culto principale, il culto principale si svolgeva tutti insieme, si poteva gioire nella sala che stava al secondo piano, al primo piano, e si poteva gioire appunto tutti insieme nel culto. Ora, questi ricordi ringrazio il Signore per come comunque mi fa tornare sempre in mente l'importanza comunque che si ha all'insegnamento dei bambini, dice la sua parola di amministrare il fanciullo già nella sua giovane età e non si allontanerà da essa anche quando sarà vecchio. Uno potrebbe pensare comunque è il bambino, il giovane e il futuro della Chiesa. Ed è vero, se il Signore non torna prima, saremmo noi il futuro della Chiesa, però siamo anche il presente, perché se già da ora non prendiamo queste fondamenta, non prendiamo veramente l'identità in Cristo, non seguiamo comunque questa sana dottrina, non potremmo né essere il presente e tantomeno il futuro della Chiesa. Ho vari ricordi in questo momento che mi tornano in mente. Io comunque, come ho detto, andavo ma ovviamente non mi sono mai battezzato. Poi arrivando in Italia, all'età più o meno di 12-13 anni, mia madre mi costrinse, diciamo, a battezzarmi nella Chiesa Cattolica. Io mi ricordo sempre ogni mattina, ogni domenica mattina, lei mi svegliava e mi diceva, devi andare in Chiesa, devi andare in Chiesa. Io ovviamente dicevo, sì, in Chiesa. Molte volte non ci andavo, faccio finta di andarci. Per esempio, andavo, sì, sì, vado in Chiesa, vado in Chiesa. In realtà andavo da tutta l'altra parte. Tanto io abitavo qua vicino alla Chiesa, di conseguenza, appena sentivo le campane che finivano la Chiesa, io uscivo da dove ero e andavo per l'uscita della Chiesa, facevo finta di uscire dalla Chiesa, anche perché mia mamma non veniva in Chiesa. Ed è questo che mi ha colpito molto. Comunque mia madre mi diceva, devi andare in Chiesa, devi sederti in prima fila e tutto il resto, perché lei comunque non partecipava alle messe. E io dentro di me ogni volta mi chiedevo, ma come fa lei a dirmi di andare in Chiesa, mentre è lei la prima a non farlo. Ed è brutto comunque, fratelli, sorelle, sì, va bene, io vado in Chiesa e lascio il mio figlio, oppure sì, porta il mio figlio e poi io arrivo dopo. Ovviamente il bambino, il giovane, si accorgerà di questo fatto, dire ma come? È come se un alcoolizzato viene da me e mi dice non bere, fa male. È una cosa contraddittoria. Se io dico una cosa è perché anch'io stesso la faccio. Non possiamo dire una cosa che già inizialmente siamo noi a non farla. Siamo noi a non agire in questa cosa. Veramente io incoraggio ad ogni mamma, ad ogni papà. Io sono un giovane della Chiesa, però comunque, come tutti noi, siamo comunque stati bambini. Quindi il bambino impara, impara per il testimonio, senza che comunque nessuno gli dica niente. Il bambino impara e fa quello che lui vede. Questo è il pensiero che sarà nel mio cuore, che Dio vi possa benedire grandemente. Pace di Cristo.